grazie ragazzi ho apprezzato molto al tuo regalo dai è molto buono si si dammelo si dammelo nooo chi fa me ebbia scusa ma perché ti registro no carico no no raga mettate caputano no vabbè regà non ci sarà certo dal vivo mi rompo i condioni che c'è successo il pad devo muoverlo un po' aspettate pad il pad tab facciamo così qua il pad lo mettiamo qua da scicare 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 il piaggio flicco no ecco il mio flicco adesso siamo in live con 4.000 persone cioè da 3 vabbè regà record di live cioè record di live 4 cioè damn c'è a te 5 ho collegato pure io ma lo c'è c'è uno spettatore attuale spettatore attuale spettatore attuale quel coglione di alessandro sicuro lo so vabbè regà 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 a patate mamma guarda guarda come tromba patate guarda ma 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 è impossibile fare l'air dribble così vero vi giuro che se mi esce l'air dribble da pc guarda oh 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 gira 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 macchina di merda quasi sceme ma 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 posso disegnare il disegno ma una logica delle cose che dice mio fratello me la date voi perché 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 nessuno mi caga perché se rubano il cielo facciamo il provino il cielo e eh buchino volevi eh non potevi tro ho segnato ragazzi ho segnato ma che cazzo mi ho fatto a segnare ma cioè l'ho lisciata di una maniera vabbè bellissima la mia esposione d nel vabbè davvero di vabbè di una l buchino non voglio il ballino giallo vi prego cioè dai un gol da bc e un gol da masso e tastiera ma oi cazzo a te com'e sono lex cioè ragazzi guardate come si plegta cazzo 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 il mio telefono sta a due per cento si spegnerà tra venti secondi GUERDI NAAAAAAAMUTO bucchina la troia troiazz 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 troia Mamma te, mamma te, patata. Mamma te, patata. Sa quanto cazzo me ne fotte che il telefono si spegne? Un bocchinaro. Mi servirebbe il caricatore. Che cosa? Che cosa? Che cosa? Che cosa? E qua non lo dimostri, guatto. Aspettate un attimo ragazzi. Tra poco mia madre, mia madre mi butterò un urlo. Ciao. 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 Ciao.